Disposizioni transitorie e finali 1. Con le tratte in vigore della Costituzione, il Capo Provisore dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo. 2. Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere. 3. Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che 4. Sono stati Presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee Legislative 5. Hanno fatto parte del disciolto Senato 6. Hanno avuto almeno tre elezioni, comprese quad, all'Assemblea Costituente 6. Sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei Deputati del 9 novembre 1926 7. Hanno scontato la pena della reclusione, non inferiore a cinque anni, in seguito a condanna del Tribunale Speciale Fascista per la Difesa dello Stato 8. Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato, che hanno fatto parte della Consulta Nazionale 9. Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina 10. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina al senatore 4. Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione 5. La disposizione dell'articolo 80 della Costituzione per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge 6. A effetto dalla data di convocazione delle Camere 6. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti 7. Salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti e dei Tribunali Militari 7. Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale Supremo Militare 7. In relazione all'articolo 111 7. Fino a quando non si è emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario, in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente 8. Fino a quando non entri in funzione la Corte Costituzionale, la decisione delle controversie indicate negli articoli 134 8. Allogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione 8. Le elezioni dei consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione 9. Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio dalle funzioni statali attribuite alle Regioni 10. Fino a quando non si è provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, restano alle province e dai comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni dareghiano loro l'esercizio. Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche dalle amministrazioni centrali, che si è reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici, le Regioni devono, tranne che in caso di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali. 9. La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni. 10. Alla Regione del Friuli-Venezia-Giulia, di cui l'articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del titolo V della parte II, ferma restanto la tutela delle minoranze linguistiche, in conformità con l'articolo VI. 11. Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione, si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui l'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dalle primo coma dell'articolo 132. Fermo rimanendo, tuttavia, l'obbligo di sentire le popolazioni interessate. 12. È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista, in deroga all'articolo 48. Sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla leggibilità per i capi responsabili del regime fascista. 13. I beni esistenti nel territorio nazionale degli ex re di Casa Savoia, dalle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avvocati allo Stato. 14. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che stiano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli. 14. I titoli nobiliari non sono riconosciuti. 15. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome. 15. L'ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge. 15. La legge regola la soppressione della consulta arautica. 15. Con l'entrata in vigore della Costituzione si è aperconvertito in legge il Decreto Legislativo Logo Tenenziali, 25 giugno 1944, numero 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato. 16. Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali, che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate. 17. L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare entro il 31 gennaio 1948 sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa. Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere convocata quando vi sia necessità di deliberare, nelle materie attribuite alla sua competenza, degli articoli 2, 1 e 2, e 3, 1 e 2 del Decreto Legislativo 16 marzo 1946, numero 98. In tale periodo le commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo chi segni di legge ad essere trasmessi con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti. I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta. L'Assemblea Costituente, agli effetti di quel secondo coma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno 200 deputati. 18. La presente Costituzione è promulgata dal Capo Professore dello Stato entro i cinque giorni della sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente ed entra in vigore il 1 gennaio 1948. Il resto della Costituzione è depositato nella Sala Comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto durante tutto l'anno 1948 affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione. La Costituzione, munita del sigilo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica. La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato. Il testo include le integrazioni e le modifiche intervenute successivamente al 1 gennaio 1948 in conformità dei testi pubblicati in Cazzetta Ufficiale.